Avremmo voluto fare di questo giorno un evento cittadino, invitare tutti i donatori e anche tutti i pesaresi, ma purtroppo, per come voi ben sapete, in questo periodo gli eventi di questo genere non sono facili, ma volevamo comunque farvi sapere che l'Avis Comunale di Pesaro ha cambiato sede. Parliamo della sede amministrativa, quindi degli uffici dove si svolgono le attività, dove si programmano le attività, dove si ricevono le chiamate dei donatori e si programmano le donazioni. Per quanto riguarda la donazione, si svolge sempre il centro trasfusionale dell'ospedale di Pesaro. Detto questo, oggi abbiamo inaugurato, poco fa abbiamo inaugurato questa che è la nostra nuova sede, ci troviamo in via Curiel e l'abbiamo fatto perché ricordiamo sempre che i donatori donano due cose, che sono le cose più importanti della loro vita, donano sangue e donano il loro tempo. Tutte le mattine, dalle otto e mezza a luna, le nostre segretarie si trovano qui, si trovano sia per rispondere sempre al telefono, a Facebook, Internet, tutti i contatti che abbiamo, ma si trovano anche qui perché qualora vi venisse l'idea di passare, di voler chiedere informazioni, potete suonare il campanello e troverete ad accogliervi loro. L'invito è sempre quello di diventare donatori di sangue, di chiamarci e di pensare alla donazione, quale gesto importante e fondamentale per la vita di tutti. La donazione è un momento di grande altruismo, ricordo che donare sangue significa salvare vite in senso ampio, ricordiamo che anche la donazione di organi, la donazione di midollo, e quelle che sono tante altre attività che vengono svolte tra i vari modi di poter donare, il sangue è uno degli elementi che è sempre presente all'interno di ognuna di queste attività. Quindi donare diventa importante non solo per quelli che sono gli incidenti che magari ci vengono in mente o quelle che sono attività anche rutinarie legate alle operazioni. Ma donare oggi è importante anche per la donazione del plasma iperimune. Ci teniamo a ricordare anche che ci stiamo avvicinando a uno dei periodi più difficili dell'anno, che è quello del periodo invernale. Quindi ricordiamo sempre che le necessità di sangue c'è sempre ed è importante non aspettare l'ultimo minuto o l'emergenza per diventare donatore, ma è bene fare la visita dei donità prima e poi siccome è una visita che richiede diverso tempo perché c'è il tempo delle analisi, il tempo della risposta, lo spieghiamo sempre, non è subito immediato diventare donatore, ci vuole un po' di tempo, quindi se avete questo desiderio approfittatene.